Con i 39 disponibili da domani all'ospedale Cattinara saranno 102 i posti letto di terapia intensiva e subintensiva in Friuli Venezia. Giulia Riccardi abbiamo realizzato in 15 giorni la nostra fiera di Milano. Terza vittima da covid alla casa di riposo di Zopole, morto stamattina un 97enne, in regione i decessi sono saliti a 129 1800 le persone contagiate. L'azienda resta chiusa per il fermo produttivo ma il presidente non chiede la cassa integrazione paga di tasca propria gli stipendi a 250 dipendenti. La Mabi di San Daniele ha anche donato 100.000 euro all'ospedale. Le sole di clausura di San Vito al Tagliamento hanno aperto una linea telefonica per ascoltare chi isolato dal coronavirus si sente solo un conforto spirituale a pochi giorni da una pasta che passeremo a casa. Terza gelata notturna in pochi giorni a rischio ai fruttetti della regione. lo spalzo di temperatura può compromettere il ciclo vegetativo. A Tappogliano spiegano come vengono congelati i fiori per salvare i frutti. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Saranno attivati domani all'ospedale Cattinara di Trieste 30 nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva che porteranno in totale a 102 i posti complessivi in Friuli Venezia Giulia. Lo abbiamo fatto, ha detto Fedriga, affinché chi abbia bisogno di questo tipo di cure particolarmente complesse che richiedono anche un numero significativo di operatori per paziente, abbia tutti gli strumenti per poter guarire. Abbiamo realizzato in soli 15 giorni la nostra fiera di Milano, ha aggiunto il vice governatore Riccardo Riccardi facendo riferimento al nuovo reparto di terapia intensiva costruito nel comprensorio fieristico del capoluogo Lombardo. Attrezzando il dodicesimo piano di Cattinara, che stiamo proprio vedendo in queste immagini, arriviamo in regione a 102 posti letto complessivi di terapia intensiva. In quest'ottica, ha detto Riccardi, l'obiettivo ora è, entro il 15 aprile, di attivare il tredicesimo piano con l'infettivologia e la pneumologia per le degenze che hanno bisogno di cure meno pesanti. Mancano alcuni dispositivi, come ad esempio i caschi per l'ossigenazione, auspichiamo che il governo adempia agli impegni presi, ha concluso Riccardi. L'opera ha comportato una spesa complessiva di 5 milioni, 369 mila euro. Per quel che riguarda le apparecchiature in dotazione alla struttura, ci sono tra le altre 39 ventilatori polmonari, 5 ventilatori da trasporto, 39 monitor multiparametrici, un ecografo, 39 umidificatori più 4 ad alto flusso. Gli ambienti sono stati dotati di una filtrazione assoluta dell'aria e di dispositivi di chiamata per gli infermieri. Intanto il Friuli Venezia Giulia si attesta, come la Regione d'Italia, con il più basso tasso di ricoveri rispetto al numero di contagiati. Sono 259 le persone ricoverate nei nostri ospedali per coronavirus, 60 malati si trovano in terapia intensiva, 199 negli altri reparti. A dirlo il bollettino di oggi, 7 i decessi in più, 114 i nuovi contagi. Arrivano così a 1.799 le positività totali accertate al Covid-19, 129 il numero complessivo dei morti. I guariti sono 162, i guariti clinicamente, cioè senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone, sono 214. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.035. Terzo decesso alla casa di riposo di Castions di Zoppola, si tratta di un uomo di 97 anni vinto dal coronavirus. Nella struttura che ospita un centinaio di anziani, oggi sono state eseguite 25 radiografie al torace grazie al servizio di radiologia domiciliare attivato all'azienda sanitaria. Terzo decesso tra gli ospiti della casa di riposo di Castions di Zoppola a causa del coronavirus. È morto oggi all'ospedale di Pordenone dove era ricoverato da giorni Ferruccio Bontempo, classe 1922. Anche lui era tra gli anziani che vivevano nella struttura gestita dalla fondazione Micoli Toscano. La morte del 97enne segue quelle di Anna Gambarin, 101 anni, e Yolanda Nardin, 98, decedute negli scorsi giorni. Tutti gli ospiti e i dipendenti sono stati sottoposti al tampone e ora rimangono positivi 21 anziani e 8 operatori. Oggi all'interno della struttura sono state effettuate 25 radiografie del torace ai pazienti presenti grazie al servizio di radiologia domiciliare attivato dall'azienda sanitaria del fluo occidentale per garantire un'attività ancora più peculiare per gli utenti più fragili del territorio, colpiti o con sospetto Covid-19, come ha sottolineato il direttore generale della ASFO, Joseph Polimeni. Due gli operatori tecnici sanitari di radiologia coinvolti nell'esecuzione dell'esame. L'apparecchiatura, completamente digitale, consentendo l'invio telematico delle immagini, permette la refertazione in tempo reale dalle radiologie. Si tratta di un servizio fondamentale nella lotta alla diffusione del coronavirus, consentendo ai medici di medicina generale di monitorare con precisione l'evoluzione del quadro clinico dei pazienti, senza pericolo di estendere l'infezione. Il progetto ha coinvolto i vari dipartimenti ed era già attivo nelle case di riposo di San Vito al Tagliamento e Morsano e nel carcere di Pordenone ed è stato ora ampliato per l'emergenza Covid-19. Intanto oggi ha preso avvio a San Vito al Tagliamento l'attività di sala operatoria di chirurgia della mano diretta dal dottor Alberto De Mas per interventi a carattere di urgenza differibile, mentre in sala operatoria a Pordenone saranno trattate soltanto le urgenze. La casa di cura città di Udine è e resta sempre a disposizione della collettività per supportare il servizio sanitario. I 50 posti letto di medicina che c'erano stati chiesti il 16 marzo dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per ospitare i primi pazienti restano utilizzabili già da ora se c'è la necessità di alleggerire i reparti dell'ospedale di Udine messi in difficoltà dall'emergenza coronavirus. E' quanto si legge in una nota del policlinico città di Udine. Ha suscitato polemiche l'annuncio della struttura di voler attivare la cassa integrazione per 210 dei 270 dipendenti. In particolare proprio il direttore dell'ASU Friuli Centrale aveva sottolineato come in questo momento il personale sanitario rappresenti una risorsa fondamentale per combattere l'emergenza coronavirus. Il policlinico, si legge ancora nella nota, ha prontamente messo a disposizione del servizio sanitario strutture, tecnologie e soprattutto personale. Ed ora il mondo del lavoro ai tempi del coronavirus. Un milione di euro come premio per i dipendenti. E' questa la cifra prevista dalla Bofrost da dare ai dipendenti e da inserire in busta paga. Vediamo. Un milione di euro per riconoscere l'impegno dei propri 2400 lavoratori nel garantire un servizio essenziale in questo periodo difficile. Bofrost, la più importante azienda italiana di consegna a domicilio di specialità surgelate, con sede a San Vito al Tagliamento, ha attivato per due mesi una serie di misure destinate a tutti i dipendenti e collaboratori di tutta Italia, premiando economicamente il loro impegno, anche a fronte di un fatturato lentamente incrementato nell'ultimo mese e mezzo. E che, viste le restrizioni fino al 13 aprile, potrebbe salire ancora. L'azienda ha investito in totale un milione di euro netto, direttamente in busta paga, con bonus che saranno erogati per i mesi di marzo, retroattivamente e aprile. A essere in prima linea, spiega l'amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin, naturalmente sono i venditori e i consegnatari che garantiscono l'arrivo dei prodotti a casa, per i quali sono previsti un aumento della diaria di trasferta per due mesi e buoni acquisto per i prodotti Bofrost. Ma sta dando il massimo anche il personale della sede del call center, delle filiali e dei magazzini. Per tutti loro agiremo con vantaggi economici concreti e immediatamente utilizzabili, conclude Tesolin. Un servizio di consegna, quello di Bofrost, che il personale sta effettuando in sicurezza, utilizzando gli appositi dispositivi di protezione e realizzando consegne il più possibile a distanza, agevolate anche dalla possibilità di pagare in anticipo la spesa online o via app. Questa iniziativa conferma la forte propensione di Bofrost a investire nel lavoro e nella professionalità delle persone. Il contratto integrativo 2019-2022 prevede 4 milioni di euro in premi di risultato individuali per i dipendenti impegnati nelle attività di vendita e consegna dei prodotti. Dal 16 marzo, infine, il personale delle filiali Bofrost di tutta Italia sta facendo conoscere ai clienti l'iniziativa Un ospedale per ogni filiale con cui l'azienda sta raccogliendo fondi da destinare alle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. L'azienda resta chiusa per il fermo produttivo, ma il Presidente decide di non ricorrere alla cassa integrazione, diciamo così di non pesare sullo Stato e di pagare di tasca propria lo stipendio per 8 settimane ai 250 dipendenti. È successo alla Mabi di San Daniele che ha anche donato 100 mila euro all'ospedale. C'è un imprenditore friulano, Mario Biasutti, presidente della Mabi International, un'azienda di pelleterie di San Daniele del Friuli, che lavora per grandi marchi internazionali e che in questo periodo di emergenza ha chiuso. Conta 250 dipendenti. Anziché chiedere la cassa integrazione, il Presidente ha scelto di non pesare sulle casse dello Stato, già gravato da mille necessità. E non basta, pagherà di tasca sua per 8 settimane gli stipendi a tutti i suoi dipendenti. Così tutti i lavoratori, pur essendo a casa, percepiranno regolarmente il loro salario. Il Presidente di Mabi ha anche donato 100 mila euro all'ospedale di San Daniele del Friuli. Un imprenditore dal cuore d'oro, un sandanielese che ha dimostrato tutta la sua solidarietà a chi ha la sua gente, ai suoi collaboratori dell'impresa, tanti sandanielesi, ma anche a tutta la comunità con questo gesto verso l'ospedale. A lui un grazie di cuore, l'esempio di un imprenditore con la I maiuscola e di una persona davvero illuminata. Lo Stato fornisca garanzia alle banche per consentire di far arrivare liquidità alle aziende, per assumere persone, una delle prime mosse per far partire l'economia senza elemosine, senza sprechi. E' una delle riflessioni emersa nel corso della trasmissione Economy FWG, durante la quale il Presidente della Daniele, Gianpietro Benedetti, risponde alla domanda se l'Italia ce la farà. Bisognerebbe chiederle al Dottor Draghi. Noi non eravamo, come Italia, non avevamo ristabilito nemmeno i livelli di pil di produttività di qualche anno fa, prima, antecrisi. Adesso probabilmente andremo sul 10% del pil, che sarà 12, che sarà 8, nessuno lo può dire, dipende come va. Noi dovremo perdere più quest'anno e il prossimo anno salire, ma forse torneremo ai livelli della pre-Covid-19 il prossimo anno. Quindi due anni di reddito diminuito e per limitarlo lo Stato garantisce per le piccole e medie imprese alle banche e facciano arrivare liquidità a chi può assumere personale, diminuire le casse di integrazione, è così un'opportunità per far lavorare le persone gestite dai nevidiettors. Insomma, qualcosa di questo genere, limitando, facendo, impegnando le persone il più possibile, deve essere implementata. E' proprio, credo io, a iniziare da queste garanzie alle banche, per le piccole e medie imprese, che possono riassumere il personale, possono rilanciare e quindi diminuire i costi dello Stato. E poi le persone pensano allo Stato come fosse qualche di un altro. Devono cominciare a pensare che lo Stato siamo noi. Boom di richieste da parte degli artigiani friulani per l'indennità da 600 euro prevista dal decreto Cura Italia. Fino ad oggi le richieste caricate online sulla piattaforma digitale realizzata da Confartigianato Imprese Udine hanno raggiunto quota 2.300 per un valore complessivo di 1.380.000 euro. La scommessa dell'associazione, che in poche ore ha saputo smaterializzare le procedure convogliandoli in una piattaforma digitale, è stata vinta due volte, commenta il presidente di Confartigianato Imprese Udine, Graziano Tilatti, per la rapidità ed efficacia con cui abbiamo messo in piedi il sistema da un lato, dall'altro per la risposta massiccia delle imprese. Al netto di questa considerazione resta però l'elevato numero di domande presentate che è lo specchietto della situazione di sofferenza che stanno affrontando le imprese artigiane. In regione sono poco più di 9.000 su uno stock di 27.700, quelle non sospese, di fatto un terzo. I militari della Guardia di Finanza di Gorizia hanno sequestrato oltre 17.000 litri di un gel igienizzante per mani che riportava sulle oltre 21.000 confezioni le indicazioni relative ad un'azione disinfettante, germicida ed antibatterica in realtà mai validata dal Ministero della Salute. L'indagine è partita dal blocco a Monfalcone di un autocarro che trasportava diversi cartoni di gel igienizzante in flaconi destinati alla vendita nell'Isontino. È stata ricostruita e disarticolata l'intera filiera commerciale non autorizzata e sono stati denunciati i responsabili per frode in commercio. Se messo in vendita, il gel sequestrato avrebbe procurato un guandagno illecito fino a 200.000 euro. Si erano ritrovati semi-clandestinamente a bere un calice in barra tarcento. Per questo motivo sono stati sanzionati amministrativamente il titolare di un locale pubblico e tre clienti. La multa è scattata dopo che i militari dell'arma della compagnia di Cividale avevano notato dei movimenti sospetti all'esterno dell'esercizio. Oltre alla sanzione è stata anche fatta la segnalazione al prefetto per la sospensione dell'attività che potrà andare da cinque giorni fino a un mese. Riprende piede un'abitudine ormai dimenticata che oggi sta diventando sempre più occasione per quanto possibile naturalmente di aggregazione sociale. La spesa a domicilio commissionata da gruppi di persone sta accadendo in diversi condomini di Udine. Quando la spesa veniva portata direttamente a casa dal negoziante di fiducia che generalmente aveva la propria attività nel quartiere. Un'abitudine persa almeno 40 anni fa e che ora pare essere stata riscoperta. I più coscienziosi evitano di uscire dalla propria abitazione e in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda chi vive in condominio, si stanno organizzando per la spesa collettiva. Pare che queste iniziative partite in sordina si stiano sviluppando a macchia di leopardo grazie alla disponibilità dei commercianti che al di là dello spirito di servizio si stanno organizzando per salvare le proprie attività. All'inizio dell'emergenza legata al coronavirus, la FIDA, Federazione Italiana dei Taglianti Alimentari, aveva inviato ai suoi associati una circolare in cui chiedeva loro di rendersi disponibili a fare le consegne a domicilio. Come ci spiega il presidente provinciale FIDA, Andrea Freschi, la consegna unica per tutti i condomini avviene nell'atrio o fuori dalla porta dello stabile, senza alcun contatto con le persone che talvolta lanciano i soldi o la carta di credito anche dalla finestra. Pare di essere tornati indietro nel tempo, commenta Freschi, constatando che nei momenti di crisi e di difficoltà collettive emergono aspetti umani che sembravano soppiti. Gli operatori del settore meritano il giusto riposo. Negozi di alimentari e supermercati rimangano chiusi anche a Pasquetta. La richiesta arriva da Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Abbiamo proposto al governatore Fedriga di estendere quello che è l'attuale divieto di apertura dei negozi e dei supermercati anche la domenica in Regione Friulenza Giulia anche alla giornata di Pasquetta. Questo perché per il portarsi dell'emergenza e per le imposizioni previste sia a livello nazionale che a livello regionale a Pasquetta i negozi potrebbero anche decidere di rimanere aperti. Abbiamo avuto delle segnalazioni che così se è o così sarà se non si interviene con una norma e in questo caso con un'ordinanza della Regione Friulenza Giulia. Quindi per evitare che ci possano essere ulteriori assemblamenti, ulteriori anche acquisti magari non giustificati, così come il governatore è già intervenuto per chiudere questi negozi la domenica, noi chiediamo di farlo anche lunedì per dare anche un preciso segnale ai lavoratori e ai commessi che stanno ovviamente garantendo un servizio fondamentale per tutta la popolazione, dare a loro il giusto riposo e magari passare per la prima volta una Pasquetta o una giornata festiva con la propria famiglia per intero. E a proposito di come si vive ai tempi del coronavirus, siamo andati in montagna per capire qual è la situazione. Ci sono questioni anche legate alla logistica e poi il tema delle seconde case. Vediamo. Sono ancora limitati fortunatamente i contagi da coronavirus nella montagna friulana, che però non è certamente esente dai disagi che la pandemia comporta. Oltre alle difficoltà di rifornimento e di approvvigionamento con piccoli punti vendite ed elementari spesso insufficienti, la montagna si trova ad affrontare anche altri temi, come la lontananza delle strutture sanitarie e la presenza sul territorio comunale di turisti rimasti bloccati e impossibilitati a tornare nelle loro residenze. Come comunità, essendo una comunità posta al confine con il Veneto e a una certa distanza anche dall'ospedale, il primo ospedale che è quello di Tolmezzo, che siamo a 50 minuti, a quello di Udine, che siamo sopra l'ora e mezza, mi sono sentito in dovere di poter riorganizzare e risistemare una struttura comunale, quale è la foresteria, per adibirla eventualmente in un centro di primo soccorso. Può ospitare 25 persone, è attrezzata ognuno con le proprie brandine, abbiamo recuperato dei kit di primo soccorso. Abbiamo avuto qualche problema, chiaramente, come tutti i comuni, come tutti i comuni turistici all'inizio, perché abbiamo voluto gestire delle situazioni un po' particolari, con delle presenze che non erano controllate del tutto. Poi devo dire che sono stati molto bravi anche gli ospiti che si sono fermati qua e che sono ancora qua presenti, alcuni di loro, che hanno comunicato quando sono arrivati, da quando sono a Ravastretto, che si muovono solo gestivamente per approvvigionamenti personali loro, gli alimentari e quant'altro, ma che in realtà ci danno comunque una sicurezza anche loro. Abbiamo capito bene che non è il caso assolutamente di muoversi e di creare problematiche. Netflix e Italian Film Commission danno vita al Fondo di Sostegno per la TV e il cinema nell'emergenza Covid-19. A disposizione un milione di euro, il comparto soffre anche nella nostra regione, d'ora attende i dettagli dell'operazione, come spiega Federico Poilucci della FWG Film Commission. Netflix e Italian Film Commission annunciano la creazione del Fondo di Sostegno per la TV e il cinema nell'emergenza Covid-19, con l'obiettivo di fornire supporto emergenziale a breve termine alle maestranze e alle truppe dell'industria audiovisiva italiana, direttamente colpite dallo stop alle produzioni sul territorio per la crisi legata al coronavirus. Netflix mette a disposizione un milione di euro. In Friuli, Venezia e Giulia sono centinaia le maestranze del comparto colpite dalla crisi. Per capire come funzionerà lo strumento bisogna aspettare ancora, credo, qualche settimana, quando passeremo alla fase operativa, per capire chi potrà effettivamente accedere agli aiuti. Io colgo l'occasione soltanto poi per richiamare invece quelli che sono i soggetti pubblici, le istituzioni, a cominciare dalla giunta regionale, a ricordarsi di sostenere un comparto come quello della produzione audiovisiva, che ricordo è un comparto industriale, che solo in Friuli Venezia e Giulia impiega centinaia di maestranze e che in questo momento emergenziale ha ancora più bisogno di sostegni alla produzione. Noi Fin Commissione italiane siamo onorate di essere state scelte da Netflix come partner di questa iniziativa, in quanto la nostra conoscenza del territorio è capillare, e la nostra conoscenza anche della realtà professionale del territorio è molto profonda. In pochi giorni per la quarta volta c'è stata una gelata notturna ed è un problema per i frutteti della regione con le gemme già apparse. Siamo andati all'azienda agricola di Luca Verzegnassi a Tapogliano, il quale appunto ci conferma come sia ormai fondamentale per i coltivatori dotarsi degli impianti antibrina per i frutteti. In queste immagini scopriamo anche come si fa a congelare i fiori per poter salvare i frutti. Ci troviamo a Campolongo Tapogliano e più precisamente Tapogliano e qua all'azienda agricola Verzegnassi siamo nel principale meletto e come si può vedere è tutto ghiacciato, questo perché? Perché la temperatura è scesa a meno 4 gradi e le piante erano nella fase di bottoni rosa e quindi è molto importante fare un'irrigazione di soccorso che sta ancora continuando. Praticamente abbiamo cominciato a bagnare verso le 23 quando la temperatura era a circa 0 gradi e adesso bisognerà continuare fino a quando non salirà, ovvero alcuni bagnano fino a quando non si scioglie il ghiaccio, però quando la temperatura sale a 4-5 gradi si può chiudere l'impianto. Vediamo se riesco a mostrarvi un fiore congelato, eccolo qua, in questo modo dentro il fiore si avranno 0 gradi e quindi in teoria non c'è nessun pericolo. Le suore di clausura di San Vito al Tagliamento hanno aperto una linea telefonica per ascoltare chi isolato dal coronavirus si sente solo, un conforto spirituale a pochi giorni da una Pasqua che dovremmo trascorrere in casa. Un aiuto per chi si sente isolato da chi ha scelto l'isolamento come modo di vivere. Le suore di clausura di San Vito al Tagliamento, una comunità di poco più di 10 donne, hanno attivato un canale di ascolto per aiutare chi soffre di solitudine. Tra le iniziative attuate dalla Chiesa in Italia per prestare cura a chi è travolto dall'emergenza coronavirus, c'è quella del monastero di Santa Maria della Visitazione di San Vito al Tagliamento. Le suore dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria, presenti in città dal 1708, si sono messe a disposizione di chi, sentendosi solo a causa delle necessarie limitazioni per agenare il contagio, desidera essere ascoltato, condividendo speranza e fiducia. L'ho reso noto il sindaco di San Vito, Antonio di Bisceglie, dopo aver parlato con il suor Maria Serena. Ringrazio vivamente, a nome della comunità, dice il primo cittadino, le suore per questo alto contributo di solidarietà e della bella disponibilità di sostegno. Infatti, le persone che volessero parlare, dialogare e ricevere conforto, conclude, possono telefonare al numero 338 20 13 913. Un gesto questo che assume un significato particolare mentre ci si avvicina alla Settimana Santa, che terminerà con una Pasqua che, per la prima volta, tutti trascorreranno nella propria abitazione. E tra pochissimo, subito dopo il nostro telegiornale, trasmetteremo, come di consueto in diretta, dalla Basilica delle Grazie a Udine, la Santa Messa che sarà celebrata dall'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno. Mazzocato, appuntamento tra pochissimo. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Mazzucato, appuntamento tra pochissimo. Mazzucato, appuntamento tra pochissimo. Mazzucato, appuntamento tra pochissimo. Grazie a tutti.